Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono appena terminate le partite delle 15, partite che erano Fiorentina contro Empoli terminata 3-1. C'era poi la Stavdoria che vince 2-0 in casa contro il Parma e il Sassuolo che vince in trasferta contro il Frosinone sempre per 2-0. Allora, partendo dalla Fiorentina, fa una bella partita questa volta la Fiorentina, mi è piaciuta di più rispetto al solito, non mi convinceva nell'ultimo periodo, tant'è che non vinceva appunto da due mesi e mezzo, però se non altro fa una partita buona, una partita in cui ci sono stati degli errori importanti che hanno rischiato di mettere in grosse difficoltà appunto la Viola e a favore dell'Empoli, però anche tante belle azioni. Fiorentina che ha trovato un Empoli dall'altra parte che comunque aveva una gran voglia di giocare, lo spirito di Iachini si è visto in questo inizio di stagione, diciamo da quando è arrivato lui, la voglia, la grinta, la determinazione nel cercare di raggiungere un risultato positivo e ce l'ha avuto anche oggi, tant'è che va in vantaggio con un gol abbastanza banale di Krunic, però comunque bisognava esserci in quella circostanza. Mentre invece la Fiorentina è stata molto brava secondo me a trovare il pareggio negli ultimi 5 minuti del primo tempo per poi riuscire diciamo nel secondo tempo con un bel secondo tempo, davvero un gran secondo tempo di altissimo livello a ribaltare i risultati del loro favore vincendo appunto 3 a 1. Mi è piaciuto stavolta Chiesa di più rispetto alle altre volte, Chiesa che soprattutto nel secondo tempo si è presa un po' la squadra nelle spalle in un momento importante quando bisognava cercare di portare in vantaggio la sua squadra. Mi è piaciuto molto Biraghi sulla sinistra che sia in fase difensiva che in fase offensiva con dei by cross è stato sicuramente uno dei giocatori più pericolosi. Ha fatto l'assista a Simeone ma poi anche successivamente ha messo due o tre palloni interessanti che potevano tranquillamente secondo me diventare dei gol. È il terzino secondo me migliore che abbiamo in Italia, è il terzino da nazionale. Quello che serve al nostro nazionale a livello di spinta oggi è giocato anche leggermente più avanzato perché c'era Ciccherini che aveva più compiti difensivi quindi in fase offensiva la Fiorentina diventava quasi in un 3-4-3, un 3-5-2 con Chiesa che invece tornava un pochino di più e Biraghi che invece si alzava dall'arena dei difensori. È stata una scelta secondo me azzeccata, scelta che la Fiorentina potrà comunque riproporre anche con Milenkovic quando tornerà come titolare sulla destra perché comunque lui nasce come centrale poi è adattato terzino e sta facendo una gran stagione però può tranquillamente ricoprire un ruolo più difensivo sulla destra con Biraghi libero di attaccare la profondità sulla fascia sinistra e sarà secondo me una cosa molto molto buona per il proseguo della stagione della Fiorentina poter adottare questo tipo di tattica. Vince anche la Sampdoria, Sampdoria che convince molto, anche lei ha fatto molto molto meglio rispetto alle ultime partite sempre segnata la Sampdoria, va bene, però dal punto di vista del gioco è stata spesso criticata e oggi si è visto sicuramente un gran bel gioco. Gian Paolo è abituato in realtà a far giocare bene nelle sue squadre, mi ricordo quando era l'Empoli mi ricordo poi quando era nei primi due anni, se non sbaglio, della Sampdoria in cui la squadra giocava molto molto bene è considerato, consideriamo l'erede di Sarri a livello di caratteristiche di gioco, è quello che più si avvicina alle caratteristiche del gioco di Sarri e un motivo c'è. Oggi si è visto con la Sampdoria, Sampdoria che ha tenuto tantissime volte il pallone il Parma ha fatto un po' meno bene perché gliel'ha impedito la Sampdoria appunto non ha avuto la possibilità di ripartire con la sua velocità, di mettere appunto in difficoltà magari con qualche contropiede la Sampdoria perché la palla l'avevano praticamente sempre loro diverse volte sono arrivati alla conclusione e sono stati poco precisi, è vero però diverse volte sono arrivati alla conclusione, ci hanno provato e mi sono veramente piaciuti molto a differenza del Parma che ha fatto un leggero passo indietro mentre invece passiamo all'ultima partita, quella che ha vinto il Sassuolo contro il Frosinone questa qui diciamo che il Frosinone per quanto in realtà poi abbia segnato zero gol ha avuto diverse occasioni, diverse occasioni è stata poco preciso il Frosinone veramente su 10-12 tiri che avrà fatto due sono stati in porta e qualcosa vuol dire qualcosa che da migliorare effettivamente c'è il Sassuolo dall'altra parte è quella squadra che comunque ha trovato dietro una certa solidità dal punto di vista difensivo con Ferrari, Marlon, Magnani, chi per loro che comunque danno una certa sicurezza probabilmente al riparto offensivo con un Lirola che mi sta piacendo molto di più anche in fase offensiva in termini di spinta mi dà molta sicurezza rispetto alle precedenti stagioni ed avanti comunque una superiorità che il Sassuolo ha dimostrato anche oggi il gioco di The Zerby lo vediamo quest'anno nel Sassuolo è sicuramente un gioco molto offensivo e anche rischioso che ti rischia di far subire qualche gol in più però se hai dei difensori capaci come quelli che alla fine ha effettivamente il Sassuolo puoi permetterti di avere una spinta offensiva in più mi è piaciuto un po' più Berardi Berardi che si sta leggermente ritrovando già due o tre partite che mi sta piacendo leggermente di più rispetto a un periodo un po' opaco dopo un inizio di stagione brillante come in realtà poi ci ha abbastanza abituato nel corso di questi anni al Sassuolo e quindi inizio da fare i complimenti al Sassuolo che comunque sta mantenendo un'ottima posizione in classifica io adesso la classifica giornata non l'ho ancora vista però se non sbaglio era tipo un anno decimo con questa vittoria ci sta che arrivi anche in una zona attualmente d'Europa League vedremo dove potrà arrivare questo Sassuolo però è un Sassuolo che mi piace un Sassuolo che mi piace dal punto di vista del gioco dal punto di vista dell'aggressività non molla mai mi piace veramente tanto peccato per il Ferrosinone perché con un pochino più di precisione un pochino più di cattiveria secondo me sarebbe riuscito a fare meglio in questa partita detto questo ragazzi il video è finito io vi invito a mettere mi piace se volete il post partita del video dopo del Cagliari contro Napoli vi invito infine ah no vi invito prima a commentarmi di commentare iscrivermi nei commenti che cosa ne pensate di queste partita appena terminate e vi invito infine a iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su questi tipi di video attualità calcistica fantacalcio e qualsiasi cosa accada nel mondo del calcio detto questo io vi ringrazio per la visione e noi ci vediamo prestissimo in un nuovo video l'unico video e noi ci vediamo e noi ci vediamo